scusi professore è stato spostato l'appello d'esame prof il libro è esaurito ma l'esame sarà anche orale queste le domande che pongo abitualmente ai miei docenti universitari e poi ci sono le domande di contenuto sui temi trattati oppure le richieste di approfondimento e tu mio collega studente universitario di 80 anni fa cosa chiedevi ai tuoi prof certamente non li chiamavi prof e forse davi loro anche del voi ma che domande ponevi a me piacerebbe molto chiedere loro perché solo in 12 su 1200 tra voi non hanno accettato di giurare fedeltà al regime perché avete accettato di insegnare la menzogna della razza perché all'improvviso sono scomparse le tesi di laurea sull'arte moderna sugli autori ebrei o sulla storia del movimento operaio vorrei chiedere loro tutto questo ma ne avrei il coraggio o starei zitto e tu cosa hai fatto allora davanti ai tuoi prof grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti